Elezioni politiche, Michela Vittoria Brambilla e Stefania Craxi più votate a Caltanissetta rispettivamente per la Camera e il Senato. Rissa in città, intervento dei carabinieri, 5 segnalati. Due giovani segnalati dalla polizia a Caltanissetta, il primo per furto aggravato di un motociclo, il secondo per guida e stato d'ebbrezza psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Concerto benefico a lume di candela nell'aula magna del consorzio universitario nisseno. Sport calcio Nissa, esonerato l'allenatore Settineri dopo tre partite di campionato. Bentrovati, elezioni politiche, Michela Vittoria Brambilla e Stefania Craxi più votate a Caltanissetta rispettivamente per la Camera e il Senato. Alle 23 di ieri sera i 56 seggi delle sezioni scrutinate a Caltanissetta si sono chiusi. Il capoluogo che rientra nella circoscrizione Sicilia 1 che comprende le province di Palermo, Trapani e Grigento e Caltanissetta, al collegio uninominale U04 e al collegio plurinominale P02. Ad esprimere il loro voto per le elezioni politiche di Camera e Senato sono stati il 55,7% dei nisseni pari solo a 26.550 dei 47.667 aventi diritto al voto. Il dato emerso dallo spoglio per Camera e Senato ha decretato la vittoria del centrodestra con Michela Brambilla di Forza Italia e imprenditrice nata nella provincia di Lecco, presente alla Camera dei Deputati dal 2018, premiata da 8.772 nisseni pari al 34% dei votanti in città. Ha ricevuto il 28,68% dei voti, ovvero la preferenza di 7.192 nisseni d'edalo Pignatone, del Movimento 5 Stelle, avvocato di San Cataldo, membro già della Camera dei Deputati dal 2018. Il 18,11% dei voti è andato a Martina Riggi del PD, anche lei di San Cataldo, seguita da Giampiero Modaffari, ex sindaco di San Cataldo, che ha ottenuto il 10,2% delle preferenze della lista sud-chiama-nord di De Luca. Al Senato della Repubblica la scelta dei nisseni vede Stefania Craxi, ex sottosegretario di Stato agli pari esteri, deputata dal 2006 al 2013. Dal 2018 la senatrice per Forza Italia traguarda il 36% dei voti, seguita dal gelese Pietro Lorefice, già nel Movimento 5 Stelle e senatore della Repubblica Italiana dal 2018, con il 29,34% dei voti. Il 18,25% va invece alla nissena ex vice sindaco di Caltanissetta, Marina Castiglione del PD. I dati dei collegioni nominali riconfermano il dato già avuto in città per Brambrilla con 33.766 voti pari al 35,73% e per la Craxi 96.453 voti pari al 37,69%. Resta comunque il dato degli astenuti a Caltanissetta per le elezioni politiche del 44,30% che fa comprendere la posizione di 21.117 cittadini che hanno rinunciato ad esprimere il proprio voto. Voto regionale, le proiezioni Schifani verso la presidenza De Luca II. Elezioni regionali. I risultati ufficiali che riguardano Caltanissetta in base al dato provvisorio di 13 sezioni scrutinate su 56, vede il centrodestra in testa con Renato Schifani e il 35,24% dei nisseni che lo ha votato. A Cateno De Luca va il 23,31%, segue il 22,43% di Noccio Di Paola e del Movimento 5 Stelle, il 17,57% per Caterina Chinnici del PD, 1,06% di Gaeta Norma Ozione Italia Viva, 0,38% di Eliana Esposito Siciliani Liberi. Lo scrutinio delle elezioni regionali in Sicilia ha avuto inizio alle 14 e determinerà in base a quanto emergerà dalle 5.293 sezioni della Sicilia chi sarà il nuovo presidente della regione e i deputati dell'ARS. L'affluenza regionale ha visto il 48,62% esprimere il proprio voto, dato di quasi due punti percentuali in più rispetto a quello delle regionali di cinque anni prima, cioè 46,75%. Significa che domenica in Sicilia hanno votato 2.249.870 votanti su 4.627.146 elettori. I dati definitivi delle 23 di ieri vedono la provincia con più affluenza Messina al 53,4%, seguita da Catania al 52,24% e Palermo al 50,14%. Dato che riguarda invece le altre province vede Siracusa al 48,37%, Trapani al 48,12%, Ragusa al 47,08%, Agrigento al 41,46%, Caltanissetta al 40,81% e infine Enna al 39,99%. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana che saranno eletti seguiranno la seguente ripartizione dei seggi. 62 dei seggi saranno attribuiti con sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5% a livello regionale, per cui 16 seggi andranno a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna. Un seggio spetta al candidato della presidenza della regione eletto, un seggio spetta al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze. Poi ci sono i sei seggi assegnati all'interno della lista regionale del candidato presidente. Questa lista bloccata ha la funzione di premio di maggioranza, permette alla coalizione che sostiene il presidente della regione eletto di avere al massimo 42 seggi all'arsa. I seggi non utilizzati saranno poi distribuiti con criterio proporzionale alle liste di minoranza che hanno superato lo sbarramento. Rissa a Caltanissetta, intervento dei carabinieri, 5 segnalati. 5 persone, di cui 3 minorenni, sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di avere preso parte a una rissa in via Crispi, nel centro storico cittadino. Il fatto è avvenuto nella mattinata di domenica. A segnalare quanto stava accadendo ai carabinieri sono state alcune persone che hanno assistito alla scena. Subito dopo sul posto è arrivata una gazzella dei militari dell'arma, i quali hanno sorpreso i cinque protagonisti negativo della vicenda. Gli investigatori li hanno identificati e denunciati a piede libero. Non è chiaro il motivo per cui gli indagati hanno iniziato a darsele di santa ragione. Saranno adesso le indagini a mettere insieme le tessere del mosaico. Due giovani segnalati dalla polizia a Caltanissetta. Il primo per furto aggravato di un motociclo, il secondo per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I poliziotti delle volanti hanno denunciato a piede libero in procura due diciottenni. Il primo per il furto aggravato di un motociclo e il secondo per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I due giovani sabato scorso sono rimasti coinvolti in due diversi incidenti stradali. Nel primo caso avvenuto nel pomeriggio di sabato uno dei due diciottenni è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. A soccorrelo l'equipaggio della volante di zona dopo che il controllo ha accertato che il ragazzo poco prima aveva rubato un motociclo parcheggiato per strada e dopo essersene impossessato ne ha perso il controllo finendo per terra. Gli agenti hanno sequestrato il mezzo e condotto il giovane in questura. Oltre alla denuncia penale i poliziotti hanno sanzionato il diciottenne per guida senza patente. Nel secondo caso avvenuto nella tarda serata di sabato l'altro diciottenne mentre era alla guida della propria autovettura è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un ciclomotore condotto da una ragazza. Il giovane è risultato positivo all'esame tossicologico per l'assunzione di cannabinoidi. Interventi su acquedotti, ancipa e blufi. Martedì 27, niente distribuzione idrica a Caltanissetta. Garantite le utenze di ospedale e carcere. Potrebbero verificarsi in doppia la regolare distribuzione idrica a Caltanissetta nelle zone marine di Butera nella giornata di martedì 27 settembre. Questo perché Sicilia Acque ha comunicato che dalle 7 di martedì interromperà l'attività degli acquedotti ancipa e blufi per consentire l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione non più rinviabili necessari per eliminare alcune grosse perdite che si sono manifestate di recente. Tali interventi avranno una durata di 12 ore sull'acquedotto ancipa e di 24 ore sull'acquedotto blufi e vedranno impegnate più squadre di manutenzione per ottimizzare i tempi di intervento e consentire l'esecuzione dei lavori previsti in un'unica soluzione. Di conseguenza Caltacqua, gestore del servizio idrico per la provincia di Caltanissetta, non potrà garantire la regolare distribuzione nel capoluogo, ad eccezione delle utenze di ospedale e carcere che continueranno a essere garantite, e nelle zone marine di Butera. A Mazzarino la distribuzione subirà un ritardo rispetto alla usuale turnazione di 36 ore. Nei comuni di Riesi e Niscemi, grazie all'utilizzo delle risorse da fonti proprie, non si registrerà alcun disservizio. Caltacqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano disponibili. Caltanissetta, 13 lauree in scienze della formazione. Corone dall'oro, fiori, sorrisi e l'emozione di chi oggi ha tagliato il traguardo della laurea. Su che cosa hai svolto la tua tesi? Scuola, benessere, quindi promozione del benessere scolastico e del sostegno sociale. Ho condotto una ricerca nella scuola secondaria di primo grado. Proseguirò gli studi, scienze pedagogiche. Bellissimo, un'emozione unica che solo chi la vive può saperlo. Veramente, un bel traguardo. Grande emozione quindi per 13 neolaureati in scienze della formazione e dell'educazione del corso universitario che Casa Famiglia Rosetta tiene a Caltanissetta in affiliazione con la Pontificia Auxilium di Roma. Si conclude quindi così il quinto anno di questo corso che forma figure professionali qualificate in un ambito che offre possibilità di lavoro. Le figure in questione sono quella di educatore nei servizi socioeducativi, educatore nei servizi per l'infanzia. Aperte adesso le iscrizioni al nuovo anno accademico 2022-2023. Le lauree di oggi ci hanno fatto capire quanto il lavoro di questi tre anni sia stato proficuo ed efficace soprattutto nella formazione di figure professionali che per noi sono risorse fondamentali per il territorio, per la comunità. Le lauree di oggi, alcune molto innovative, hanno parlato di sviluppo sociale e di quanto sia importante la figura stessa. Le nuove lauree, i nuovi iscritti hanno la possibilità di scegliere due indirizzi, l'indirizzo socioeducativo e l'indirizzo per l'infanzia, che appunto costruiscono profili che possono essere e trovare sbocchi occupazionali non soltanto nell'ambito della comunità, le case alloggio, nelle comunità, ma anche a livello di... possono trovare impiego negli asili nido, nei centri per l'infanzia e nei luoghi di assistenza e supporto alle famiglie. Saranno poi tre le tesi che verranno pubblicate nella collana universitaria della Fondazione Alessia. Bollo auto in Sicilia, definite le modalità per regolarizzare i mancati pagamenti senza sanzioni. Bollo auto in Sicilia, si potranno evitare le sanzioni per i mancati pagamenti seguendo le modalità per regolarizzarli, si tratta dei pagamenti del bollo auto in scadenza tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021, che non sono stati effettuati. Con la legge regionale 16 del 2022, che si applica agli omessi o insufficienti versamenti della tassa automobilistica regionale, la regolarizzazione deve avvenire entro il 30 novembre 2022. Proprio il decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle finanze del decreto definisce le modalità e la regolarizzazione agevolata che riguarda persone fisiche e giuridiche e fa riferimento ai mancati pagamenti già iscritti a ruolo per gli anni che vanno dal 2016 al 2019 e gli anni 2020-2021 non ancora regolarizzati con i canali di riscossione ordinaria. Sono esclusi i periodi di imposta al 31 dicembre 2021, i rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato e quei ruoli per i quali prima dell'entrata in vigore della legge erano già state avviate le procedure esecutive come pignoramenti, incanti e interventi nelle procedure esecutive immobiliari per le tasse automobilistiche. La regione siciliana prevede lo sgravio delle procedure esecutive che non siano state avviate alla data in entrata in vigore della norma. Per aderire alla regolarizzazione agevolata il pagamento si dovrà effettuare nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto autorizzate. Manto erboso sintetico dello stadio Marco Tomaselli parla l'assessore comunale Fran Giamone. Serviranno ancora da 10 a 15 giorni per arrivare al completamento definitivo dei lavori di posa del manto in erba sintetica allo stadio Marco Tomaselli che consentiranno di far tornare pienamente operativa la struttura sportiva di Contrada Pian del Lago. Negli ultimi giorni la Nissa Rugby, che dividerà l'utilizzo dello stadio con la Nissa Calcio, ha comunicato l'insorgere di problemi sul corretto tracciamento delle linee di delimitazione del terreno di gioco. Secondo quanto appreso, l'intarsio delle linee potrebbe creare problemi per l'omologazione di alcune gare internazionali di rugby e per il calcio si rischierebbe di ottenere solo l'autorizzazione a giocare gare fino alla prima categoria. Problemi che però dovrebbero essere tranquillamente aggirati, come ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Marcello Fran Giamone, che abbiamo sentito nelle scorse ore. Il quale ha anche aggiunto che il terreno di gioco è stato realizzato in modo tale da consentire sia gare di rugby che di calcio. I lavori del rifacimento del mantelboso del Tomaselli stanno procedendo secondo quelle che erano le regole dell'appalto. Bisogna anche tenere conto che l'appalto, il progetto che è stato redatto nell'ottobre del 2021, ha tenuto conto anche di quelli che sono i pareri della Federazione Italiana Rugby e anche della Federazione Italiana Lega Dilettanti. Sono due pareri che danno delle prescrizioni per quanto riguarda la tipologia non solo del manto, che è fondamentale per poter esercitare tutte e due le attività sportive, quindi del mantelboso, del sottofondo, ma anche per quanto riguarda le linee che dovranno essere tracciate. Il parere della Lega Nazionale Dilettanti prescrive che le linee intarsiate bianche devono essere esclusive, quindi senza altre linee intarsiate, affinché il campo sia autorizzato per partite fino alla Serie D. Qualora fossero intarsiate altro genere di linee, il campo non verrebbe omologato, cioè verrebbe omologato fino alla prima categoria. Questa è la prescrizione che ci ha posto la Lega Nazionale Dilettanti, quindi di calcio. Fermo il restando che le federazioni che si stanno muovendo in questo momento, se ci daranno delle diverse disposizioni, saremo ben contenti di accettarle. La carovana dell'economia circolare, venerdì 30 a Caltanissetta. Due giornate per ripulire la città e le strade, ma anche per parlare di rifiuti, del contrasto al loro abbandono e ancora di raccolta differenziata. Caltanissetta sarà tra i 12 comuni siciliani coinvolti dalla carovana dell'economia circolare di Lega Ambiente. In piazza Garibaldi il 30 settembre ci saranno tre aree, quella del dibattito, del baratto e del riciclo. Rispettivamente per discutere e affrontare le questioni legate al mondo dei rifiuti, portare materiali valorizzabili come carta, cartone, vetro e scambiarli con altri prodotti riutilizzabili e verdi e infine dare una nuova vita ai materiali di scarto, realizzando nuovi oggetti nei laboratori con gli alunni della scuola primaria. È un'iniziativa di Lega Ambiente Nazionale e Lega Ambiente Sicilia e si uniscono due attività. Una è la carovana dell'economia circolare che è prevista giorno 30 settembre in piazza Garibaldi e poi c'è Puliamo il Mondo che per noi a livello nazionale fa 30 anni, è la trentesima edizione e la faremo sia venerdì sia domenica. Le attività sono queste, in piazza Garibaldi arriverà un nostro camper, tutta piazza Garibaldi sarà divisa in tre aree, un'area dove ci sarà appunto il camper, ci sarà un'area di dibattito dove intervengono il sindaco di Caltenissetta, il sindaco di Mussomeli che è presente della SRRR, la DASI, c'è alcuni attori per parlare di come migliorare la qualità della raccolta differenziata, di come andare verso la tariffazione puntuale, di come contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle strade. Poi c'è un'area in cui ci saranno i laboratori creativi dei nostri volontari e un'altra area dove ci sarà l'ecomobile, l'isola ecologica della DASTI. La invitiamo i cittadini a portare alla raccolta differenziata, noi la valorizzeremo barattandola con degli alberelli che hanno messo a disposizione sia l'azienda delle foreste demaniali che l'ispettorato ripartimentale delle foreste. Con l'iniziativa Puliamo il mondo invece anche le scuole secondarie saranno protagoniste occupandosi della pulizia di alcune aree della città come il quartiere Provvidenza o Piazza della Repubblica. Domenica 2 ottobre invece la pulizia riguarderà alcune aree di sosta sulla strada statale 640 e una sulla strada provinciale 2 con il coinvolgimento degli adulti e la collaborazione di enti e istituzioni come il Comune, il Libero Consorzio Comunale ma anche ad esempio l'ANAS. I cittadini vogliono anche presenza, organizzazione, coerenza e poi i cittadini vanno educati però se uno mantiene sporco i cittadini si sentono quasi sbagliando autorizzati a sporcare ancora di più. Chi sporca va punito, va convinto a non fare quel gesto ma questa non deve essere la scusa per lasciare le strade trafficate da turisti piene di immondizia. è una cosa che non si può vedere, solamente il 2% dei turisti che vengono in Sicilia non ritornano, il resto non torna più, cioè noi parliamo di turismo ma dobbiamo rendere appunto appetibile la nostra isola che è molto piena di beni culturali e ambientali ma anche il decoro è una cosa fondamentale per attrarre i turisti. Covid, 7 positivi nel Nisseno, 2 a Caltanissetta, altre tanti a Gela e Mussomeli, 1 a Sutera. Nuovo aggiornamento sui dati relativi ai contagi da Covid, il Ministero della Salute ha comunicato che gli ultimi dati certificano la presenza di 10.008 nuovi pazienti positivi, dei quali 391 in Sicilia. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, nelle ultime 24 ore si è avuto un riscontro di 7 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, 2 sono di Caltanissetta, 2 di Gela, 2 di Mussomeli e 1 di Sutera. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo, 10 le persone guarite dal Covid, 5 sono di Gela, 3 di Caltanissetta, 1 di Mussomeli e 1 di Santa Caterina Villarmosa. Caltanissetta, festa di San Pio da Pietrelcina a San Domenico. C'erano molti fedeli sabato pomeriggio 24 settembre nella chiesa di San Domenico in attesa di poter ammirare da vicino le reliquie e gli oggetti appartenuti a San Pio da Pietrelcina. Ci sono una sciarpa e un guanto e persino delle lettere del Santo tra i doni ricevuti dalla parrocchia. Durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 18 e 30 sono stati riposti vicino all'altare per la presentazione all'intera comunità parrocchiale. Sono presentate questa sera le reliquie e alcuni oggetti appartenenti a Padre Pio che ha donato ad un nisseno, Gaetano Santagati, scomparso a gennaio. I suoi collaboratori, i suoi amici hanno pensato di fare questo dono prezioso alla città di Caltanissetta, alla diocesi di Caltanissetta e di consegnarli alla nostra parrocchia. Dunque durante questa celebrazione della Messa viviamo questo momento di grande gioia, di grande festa, un'esperienza che ci aiuta nel nostro cammino di fede, di speranza e d'amore riscoprendo l'interessante e bella figura di Padre Pio ma anche la nostra chiamata alla comunione con il Signore. In tante realtà del nostro territorio, di tutta Italia e di tutto il mondo ci sono dei gruppi di preghiera, ci sono delle associazioni, delle realtà che richiamano la figura di Padre Pio e però ecco, con Padre Pio, insieme a Padre Pio fanno questo cammino di incontro al Signore e di sequela del Signore risorto. Concerto benefico a lume di candela nell'aula magna del Consorzio Universitario protagonista Corrado Sillitti. Nella suggestiva atmosfera dell'aula magna Leonardo Sciaccia del Consorzio Universitario di Caltanissetta ieri sera si è svolto il concerto benefico del Rotaract denominato Candle Night, concerto a lume di candele. Protagonista il musicista nisseno Corrado Sillitti che si è esibito in una magica atmosfera illuminata dalla luce delle sole candele. Il concerto, promosso dal Rotaract di Caltanissetta presieduto da Deborah Gervasi ha avuto come scopo quello di raccogliere dei fondi per l'acquisto di materiale scolastico da donare ai bambini delle case famiglia e riuscirli a seguire per l'intero anno didattico. Altro scopo benefico l'acquisto di due defibrillatori da donare alla città di Caltanissetta. È una serata molto particolare a quanto pare la prima volta in Sicilia che si ricanizza una Candle Night un concerto di pianoforte al lume di candela quindi una serata particolare naturalmente visto che si parla di Rotaract e si parla di giovani quindi ho pensato a un repertorio un po' atipico per un concerto, si spazierà infatti dalla musica classica alla musica moderna, la musica che sentiamo tutti i giorni alla radio rivista in chiave pianistica quindi sarà un concerto per tutti i gusti e tra l'altro il fine benefico di acquistare due defibrillatori da donare alla città di Caltanissetta mi ha spinto a dire a tutti i costi di sì e ad essere presente questa sera. Rotaract ha organizzato questa serata grazie all'aiuto di Corrado Sillitti che si è prontato per questa causa al fine di raccogliere fondi in modo da poter acquistare del materiale stolastico visto che c'è l'inizio della scuola per i bambini delle case famiglie infatti questo evento sarà una staffetta con quelle che sono le operazioni che compieranno anche le altre commissioni del club al fine per l'appunto di adottare tra virgolette dei bambini di una casa famiglia e riuscire a condurli durante l'anno dall'inizio della scuola fino alla fine nel realizzare i loro sogni e quindi a partire dall'acquisto del materiale scolastico per cercare di regalare anche una piccola gioia in più nell'inizio di questo percorso e pian piano poi accompagnarli fino alla fine dell'anno. Sport, calcio, Nissa esonerato l'allenatore Settineri dopo le prime tre partite di campionato. In una nota apparsa sulla pagina Facebook della Nissa il club biancoscudato comunica di aver esonerato il tecnico Alessandro Settineri nel testo si legge che a Settineri va il ringraziamento per l'operato fin qui svolto e l'augurio di un proficuo lavoro in futuro e che nelle prossime ore sarà annunciato il nominativo del nuovo allenatore. L'esonero arriva dopo le prime tre partite del campionato di eccellenza. Finora la Nissa raccolto un solo punto frutto del pari casalingo con l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo al Palmintelli. In precedenza i biancoscudati erano usciti sconfitti dagli incontri esterni di Casteldaccia e Agrigento. Intanto è stato annunciato il tesseramento di Adama Abdoulaye Koulibaly centrocampista francese proveniente dal Guspini società dell'eccellenza Sarda. La Nissa tornerà in campo domenica 2 ottobre contro la Parmonval per la quarta giornata di campionato. La notizia dell'esonero di Settineri ha suscitato sorprese e stupore tra i tifosi biancoscudati molti dei quali sulla stessa pagina social della Nissa continuano a esprimere commenti di delusione per l'accaduto. Nel frattempo è già toto allenatore la girandola di nomi tra quelli noti e meno noti potrebbe concludersi comunque a breve. E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di martedì l'Italia continuerà ad essere esposta un flusso di correnti umide e fresche nordatlantiche che attraversano il nostro paese provocando condizioni di instabilità specie sui versanti tiranici e al nord-est in mattinata. Vediamo nel dettaglio la mappa delle nuvole che ci mostra come frequenti addensamenti attraversano l'Italia interessando soprattutto il Triveneto ma poi anche il centro-sud. Infatti dalla mappa delle precipitazioni notiamo come siano soprattutto il nord-est a inizio giornata ma poi anche i versanti tiranici coinvolti da precipitazioni a carattere sparso. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso di martedì sull'Italia avremo una mattinata più instabile sul Triveneto in parte anche sull'arco alpino con pioggia acquazzoni e anche qualche fiocco di neve sulle Alpi fin verso i 1500 metri di quota sui settori confinali più orientali mentre una maggiore presenza nuvolosa continuerà a insistere sui versanti tiranici del centro-sud con la possibilità per nuove piogge e acquazzoni a carattere sparso in un contesto di generale variabilità maggiori scherite invece sul versante adriatico clima sempre molto frizzante di notte al mattino tutti i dettagli su Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno San Pio X Via Napoleone Colaianni Servizio notturno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele